Bene, buongiorno a tutti, io sono Alessandro Braghetto, sono uno dei tecnici di NKE, Negronica Engineering. Brevemente vedremo adesso una carrellata su chi è, che cos'è NKE, e poi entreremo nello specifico invece dell'argomento di oggi, che è Autodesk Navisworks. NKE, Negronica Engineering, è un platinum partner Autodesk, Autodesk è la software house che probabilmente conoscete già tutti per vari motivi, ha una rete di canale dedicato alla vendita dei software, presente un po' sotto tutto il territorio nazionale, che viene certificato e quindi viene riconosciuta ai diversi partner una certificazione su vari livelli, la massima certificazione possibile è la certificazione platinum, per cui da questo punto di vista siamo sicuramente tra i principali interlocutori di Autodesk a livello nazionale, anzi possiamo dire di essere il primo partner Autodesk italiano. Siamo presenti con 13 sedi un po' su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, io in questo momento vi sto parlando della sede NKE di Torino, ma come vedete siamo presenti anche in Spagna, quindi Autodesk ed NKE, soprattutto NKE ha una connotazione quindi internazionale da alcuni anni, siamo circa una settantina di persone che si occupano sotto vari aspetti del CAD, quindi dal punto di vista sia commerciale che tecnico, seguiamo appunto i software Autodesk, io nello specifico sono un tecnico certificato Autodesk per la parte dei software del settore AEC, quindi quello dedicato all'architettura, all'ingegneria e alle costruzioni, ma insieme a me di queste 70 persone la metà sono circa tecnici che si occupano appunto di assistenza, formazione e insomma tutto quanto è necessario per utilizzare al meglio i prodotti Autodesk. parallelamente a questo forniamo anche la parte hardware, quindi qualora ci fosse la necessità possiamo sicuramente consigliarvi su quali possono essere gli strumenti più idonei per appunto utilizzare al meglio i software, così come siamo partner anche Stratasys per quanto riguarda le stampanti 3D. in questa immagine vedete un po' dove siamo posizionati, dove siamo collocati sul territorio nazionale, in realtà la parte forse più importante di questa immagine è il nostro indirizzo nel nostro sito nke360.com a cui vi rimando per avere informazioni in merito all'attività che svolgiamo piuttosto che essere aggiornati sulle promozioni attive nel periodo, così come i social media principali, i link in Facebook e Twitter, anche in questi canali potreste trovare informazioni utili per quelle che possono essere le attività appunto che svolgiamo o le promozioni attive. All'interno del nostro sito nke360.com trovate anche l'area vlog in cui sono raccolti i filmati, i link per visualizzare i filmati delle webcast che svolgiamo, compresa quella di oggi che sarà disponibile a breve. In questa immagine abbiamo riportato invece le attività che svolgiamo parallelamente alla fornitura dei software, quindi ci occupiamo di assistenza che può essere erogata con modalità differenti, per cui un'assistenza di tipo telefonico, per cui c'è una linea dedicata, presidiata dai miei colleghi, che possono fornirvi un'assistenza diretta su quello che è il problema che riscontrate utilizzando appunto il vostro software. Abbiamo la possibilità di collegarci, cosa fosse necessario, con direttamente la vostra postazione o eventualmente possiamo venire direttamente da voi on site, quindi di fianco a voi affrontare quelli che possono essere i problemi che sorgono quotidianamente. Ci occupiamo di formazione, anche questa erogata con modalità diverse, dalla classica formazione in classi secondo un programma e secondo una serie di lezioni predefinite, quindi secondo un calendario e un programma appunto standard, così come può essere invece erogata una formazione personalizzata sulla base proprio delle esigenze specifiche, quindi concordando quelli che possono essere i contenuti piuttosto che gli orari in cui svolgere il corso. Ci occupiamo di gestione dei progetti, project management, quindi i software che si occupano di gestione documentale, i PDM piuttosto che i software di gestione del ciclo di vita del progetto e siamo attivi ormai da diverso tempo per quanto riguarda l'implementazione di progetti BIM, quindi vi possiamo assistere da questo punto di vista per andare a strutturare al meglio o comunque fornirvi quelle che possono essere le indicazioni ottimali per organizzare nella maniera più produttiva possibile un team che deve o che si trova insomma a dover partecipare ad un progetto di tipo BIM. Al nostro interno sono presenti sviluppatori, per cui ci sono tecnici che si occupano quotidianamente di programmazione al fine di implementare i software, andare ad aggiungere i software con le funzionalità che sono necessarie, magari ripetitive, che non sono previste di per sé dal software così come esce da Autodesk, i miei colleghi possono assistervi da questo punto di vista per creare quelle macro, quelle applicazioni che invece sono per voi utili per ottimizzare i tempi di processi. Di nuovo ho riportato qui il nostro sito nke360.com e anche l'indirizzo email, non il mio, ma quello di Andrea Torre, andrea.torre.nke360.com L'architetto Torre è il responsabile per NKE del settore IC a cui vi potete rivolgere qualora ci fossero domande o avete bisogno di informazioni in merito prevalentemente a questioni legate alle licenze, quindi è un discorso più prettamente commerciale. Quindi scrivete direttamente a lui, contattate direttamente lui e potrà fornirvi sicuramente le informazioni che possono esservi utili. E con questo direi che abbiamo concluso questa panoramica generale di NKE e vediamo invece adesso quello che è il tema di oggi, ovvero Autodesk Navisworks. Ho riportato qui il logo così come una breve descrizione di che cos'è Navisworks, che come magari alcuni di voi già sanno, non è un software di modellazione, nel senso che non ha al proprio interno strumenti con cui creare o modellare oggetti, ma è un software di coordinamento, di simulazione, di analisi, che consente di integrare all'interno di un unico ambiente anche file che provengono da software differenti o comunque in cui il dato CAD, il dato tridimensionale, non è per forza di cose realizzato con un unico prodotto o il progetto è separato in file diversi che devono essere in qualche modo aggregati e confrontati all'interno di un'unica scena. Di fatto attraverso Navisworks è possibile aggiungere, e lo vedremo in un'immagine che comparirà tra poco, tutta una serie di dati CAD che provengono da piattaforme differenti, per cui sicuramente si rivolge a quegli utenti che lavorano in un ambiente BIM, per cui lavorano con Revit, ma non solo con Revit, per cui nasce l'esigenza di mettere a confronto o comunque di sovrapporre geometrie che nascono su ambienti differenti e che devono essere in qualche modo messi in correlazione al fine di identificare quelle che possono essere eventuali problematiche, eventuali interferenze o conflitti dovuti proprio alla posizione che questi elementi occupano nello spazio, piuttosto che simulare scenari relativi alla costruzione, quindi alla realizzazione del progetto. Navisworks è ad oggi presente in due versioni, l'immagine che vedete in questo momento è un'immagine presa dal sito di Autodesk, appunto, che descrive appunto le funzionalità presenti sulle due release di Navisworks 2017. Possiamo anche vederle direttamente andando a guardare proprio sul sito quelli che sono appunto le caratteristiche che contraddistinguono i prodotti, per cui vedete effettivamente in questo momento la pagina web del sito di Autodesk che mette a confronto Navisworks Manage e Navisworks Simulate. Queste sono le due release ad oggi disponibili, tranne non è riportato in quest'immagine un Navisworks Freedom, che è semplicemente un visualizzatore di documenti realizzati appunto con Navisworks, è un software free, che quindi può essere utilizzato liberamente senza, diciamo così, fare riferimento ad una licenza, cosa che invece avviene per gli altri due prodotti che vedete in quest'immagine, la versione Freedom è semplicemente un visualizzatore, per cui si possono eseguire sì delle operazioni legate non tanto alla simulazione, neanche al controllo delle interferenze, quindi al check model, ma semplicemente alla visualizzazione di quello che può essere un modello 3D, che è stato composto aggregando file da sorgenti differenti. Vedete che le due versioni non sono particolarmente diverse, per cui se andiamo a confrontare quelle che possono essere appunto le caratteristiche presenti sui diversi software, se notate la spunta è presente su entrambe le colonne, quindi sia nella versione Manage che nella versione Simulate, la differenza principale non è tanto relativa alla visualizzazione, piuttosto che alla revisione dei modelli, o alle simulazioni che possono essere eseguite, quindi vedete che vi parla di pianificazione 5D, quindi la possibilità di associare l'informazione relativa al tempo, agli elementi che compongono il modello, ma in realtà la differenza, la caratteristica che distingue le due versioni, è legata prevalentemente al rilevamento e alla verifica delle interferenze, quindi quella funzionalità cosiddetta di Clash Detection, che è disponibile solamente nella versione Manage. Cominciamo a vedere adesso le principali funzionalità di Navisworks. La prima, che è sicuramente quella più importante, che caratterizza questo software, dicevamo, è la possibilità di aggregare file che provengono da software differenti, per cui nell'immagine che vedete alla vostra sinistra, è elencata una parte, neanche tutta, perché come potete vedere è un elenco piuttosto importante, da qui possono essere aggiunti alla scena di Navisworks, file che provengono da software di modellazione, di progettazione diversi. Indubbiamente c'è la possibilità di lavorare in maniera coordinata con i principali software Autodesk dedicati alla progettazione tridimensionale, per cui vedete che è presente, ad esempio, non solo Revit, ma anche AutoCAD, quindi formati di VG piuttosto che di XF, si parla di Inventor, quindi software di progettazione parametrica di tipo meccanico, diciamo il cuore della soluzione Autodesk per l'ambiente MFG, ma c'è la possibilità di collegare file che provengono anche da prodotti di altre software house, per cui si parla di CATIA, si parla di Pro Engineering, si parla di Solidworks. Questo diventa sicuramente una caratteristica importante nel momento in cui il nostro progetto non è sviluppato interamente magari all'interno del nostro ufficio tecnico, ma c'è la necessità di collaborare con altri progettisti che lavorano con piattaforme diverse, per cui il modello tridimensionale elaborato da altri può finire in maniera efficiente e ottimizzato e utilizzato in modo ottimale all'interno di Navisworks, proprio per andare ad eseguire quelle operazioni di simulazione o di navigazione del modello. Per chi si occupa di progettazione in ambito BIM, quindi lavora con software di progettazione parametrica, diciamo dedicati al mondo dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni, indubbiamente Revit è il formato, o comunque la soluzione principale in questo scenario, ma ovviamente può essere anche portato all'interno di Navisworks un formato di interscambio che di fatto è riconosciuto a livello internazionale come il formato di interscambio in ambito BIM, ovvero l'IFC che è presente, lo vedete all'interno qui dell'elenco, adesso provo a indicarlo con il puntatore, all'interno dell'elenco dei formati supportati appunto da Navisworks. Una volta che il file tridimensionale, ovviamente deve essere 3D per poter eseguire una serie di operazioni, perché il CAD 2D diventa poco utile all'interno di uno scenario di navigazione come quello di Navisworks, vedete come il modello possa essere visualizzato e navigato, navigato in tempo reale, cioè c'è la possibilità di osservarlo da punti di vista diversi, ed eventualmente anche di navigarlo in terza persona, muovendosi all'interno del progetto stesso, per cui sono disponibili una serie di funzionalità legate proprio alla navigazione, che ci consentono di visualizzare e di muoversi all'interno dell'ambiente, come se ci si potesse appunto camminare all'interno. Clash detection, questa è un'altra delle caratteristiche indubbiamente importanti di Navisworks, che come dicevamo è una funzionalità legata alla versione Manage, dove è possibile mettere a confronto due selezioni che devono essere appunto specificate, quindi attraverso il pannello, e questo lo vedremo anche live insieme, si potrà specificare quali devono essere gli oggetti messi a confronto, al fine di rilevare interferenze di vario tipo. Questa è una funzionalità del controllo delle interferenze, che è possibile se il file fosse un file nativo di Revit, può essere anche eseguita direttamente all'interno di Revit, perché nella scheda collabora di Revit è presente questa funzionalità di controllo delle interferenze, però affinché questa funzionalità sia utilizzabile, il prerequisito è che gli oggetti da mettere a confronto siano oggetti nativi di Revit. Qualora ci fosse invece una parte di modello realizzato con un software diverso, Revit magari vi consente di importare l'IVG, vi consente di importare l'IFC, di fare operazioni di collegamento con dati esterni non nativi di Revit, ma non è possibile eseguire questo controllo. Per cui questa operazione diventa possibile nel momento in cui si aggiungono, si appendono i file all'interno di Navisworks, per cui si potrà utilizzando un albero di selezione specificare quali documenti debbano essere messi a confronto, in realtà si potrà poi entrare in questo schema d'albero che ci mostra la struttura del progetto e specificare una tipologia di oggetti che debba essere confrontata con un'altra, piuttosto che lavorare in una posizione specifica del progetto, su un piano, su un livello piuttosto che un altro. Qualora poi gli elementi definissero un'interferenza, e questa interferenza può essere personalizzata, customizzata, specificando quali sono i criteri affinché un'interferenza sia considerata come tale, per cui può essere un'interferenza geometrica, perciò una compenetrazione tra due solidi, ma possono essere anche aggiunte e considerate in Navisworks valori di tolleranza, insomma situazioni diverse che possono considerare anche l'aspetto del tempo. qualora venisse appunto identificata un'interferenza attraverso il controllo del Clash Detection, gli oggetti vengono evidenziati e Navisworks andrà ad eseguire anche uno zoom direttamente nel punto in cui si verifica il problema, potendo così consentire a chi si occupa di coordinamento, e quindi di controllo, di gestione dell'intero progetto, di informare gli autori, quindi coloro i quali hanno accesso all'origine, al file nativo insomma, che comprende quell'elemento, di andare ad apportare le opportune modifiche. Consideriamo l'ambiente di Navisworks come un ambiente dinamico, all'interno del quale il file che viene modificato dal progettista può essere di conseguenza ricaricato, per cui verranno riconosciute le modifiche apportate al file dvg che è stato aggiunto, al file dvg, al file di Revit, al file di Solidworks, piuttosto che di Inventor, per cui l'interferenza che inizialmente mostra un simbolo rosso, quindi un alert che mi avvisa che c'è un problema riscontrato in una determinata entità, questo può essere poi gestito da colui che si occupa del coordinamento appunto, e poi modificato su approvato piuttosto che su risolto, in maniera tale da avere costantemente un controllo delle operazioni che devono essere eseguite all'interno del progetto, e andare ad anticipare quelli che possono essere poi i problemi che altrimenti si verificherebbero poi in cantiere, comportando poi una serie di costi in termini di tempo e anche proprio di spesa, per risolvere la problematica che non è stata prevista in anticipo. C'è la possibilità di eseguire simulazioni, per cui è possibile associare ai nostri elementi tridimensionali aggiunti alla scena di Navisworks, è possibile aggiungere, assegnare un'informazione relativa ai tempi. Questa proprietà consente, attraverso la riproduzione del timeliner, quindi di quel pannello che organizza appunto le attività, i task che sono previsti per il progetto, è possibile simulare appunto la realizzazione del modello, per cui è possibile ereditare anche informazioni che sono state schedulate su software che si occupano appunto della gestione temporale, in questo intendo project piuttosto che primavera, o software che vi consentono di schedulare le attività ed esportarle poi in un formato compatibile con questo tipo di ambienti, quindi file mpx piuttosto che file csv, queste informazioni possono entrare in Navisworks se possono essere associate agli oggetti, così da poter simulare in che modo il modello tridimensionale verrà effettivamente poi realizzato, con la possibilità poi di assegnare eventuali anche ritardi, per cui visualizzare con una grafica sostituita gli oggetti che vengono effettivamente realizzati rispettando i tempi, piuttosto che distinguere invece quelle entità che non stanno rispettando le tempistiche invece pianificate. All'interno di Navisworks sono presenti anche degli strumenti di visualizzazione, per cui se il modello che si importa in Navisworks è un modello con già delle informazioni relative all'aspetto, e questo diventa diciamo abbastanza naturale nel momento in cui si lavora con software che appartengono alla famiglia di Autodesk e sto pensando ad esempio a Revit, dove di fatto ogni oggetto che viene posizionato all'interno del file ha la possibilità di ricevere, di poter essere, come dire, vestito con un materiale, questa informazione, questa proprietà migra anche all'interno di Navisworks. Quindi è un dato che di fatto appartiene al modello 3D, appartiene al file di Revit, così come appartiene alla componente geometrica, c'è anche un'informazione relativa appunto all'aspetto che gli elementi hanno. Qualora invece il modello 3D non avesse questo tipo di informazione, perché magari è realizzata con un software non Autodesk o è realizzata con un software CAD che non consente, diciamo così, l'assegnazione del materiale, il materiale potrà essere poi associato direttamente in Navisworks. Chi di voi lavora con i software Autodesk sa bene che in fase di installazione, forse anche l'installazione solo di AutoCAD, comporta l'installazione di una libreria, una libreria di materiali, e questa è una libreria di fatto trasversale ad N-software, una libreria utilizzata da Revit, è una libreria usata da Inventor, da 3D Studio Max, da Showcase, per cui c'è una base di dati comune. Questa informazione è presente anche in Navisworks, per cui il materiale, così come io lo definisco nel mio software di progettazione, diciamo Autodesk, si sposta anche nella scena di Navis appunto. Altrimenti attraverso la selezione degli oggetti sarà possibile poi assegnare un materiale utilizzando un editor dei materiali, quindi un pannello che consente la personalizzazione di questo tipo di informazione e poi l'associazione all'oggetto 3D. Ovviamente è una visualizzazione che può essere ottenuta in un tempo assolutamente ragionevole, non ha l'ambizione di sostituire altri software di visualizzazione e intendo in questo anche solo il rendering che è possibile realizzare in Revit, ma sicuramente 3D Studio da questo punto di vista è il software di riferimento, però per ottenere delle immagini di presentazione come quelle che potete vedere alla vostra sinistra piuttosto che nella parte in alto, vedete che di fatto anche Navis ha la possibilità di poter produrre immagini, di poter produrre immagini appunto di presentazione piuttosto che la simulazione attraverso il movimento che è possibile assegnare agli oggetti. Navisworks è aperto al cloud, ormai il cloud è una realtà sempre più presente in quelle che sono le attività che quotidianamente svolgiamo, per cui non solo mail per quanto riguarda il cloud, ma anche una serie di servizi che sono raggiungibili attraverso la rete. Da anni è possibile renderizzare attraverso il cloud e quindi sfruttare quelli che possono essere le farm che ci mette a disposizione Autodesk, per cui da dentro i nostri software inviamo ad Autodesk il modello 3D e lo facciamo elaborare da altri in un tempo molto ma molto più breve rispetto a quello che può essere la potenza di calcolo della nostra Workstation, così come per quanto riguarda Navisworks c'è la possibilità di stoccare il nostro modello 3D in un ambiente dedicato che possa essere poi visualizzato attraverso dispositivi mobile tipo un iPad che mi consente attraverso una versione di Navisworks appunto di poter visualizzare anche dall'esterno potrebbe essere direttamente il cantiere il mio modello 3D. All'interno di questa versione di Navisworks sarà possibile interrogare gli oggetti, sarà possibile prendere misure, quindi calcolare, valutare una distanza tra due elementi, così come c'è la possibilità di inserire annotazioni, ovvero quelle informazioni testuali legate agli oggetti che devono essere poi magari modificate. Queste informazioni, queste annotazioni possono diventare parte del modello stesso e di conseguenza visualizzate di fatto anche in tempo reale da chi si trova in ufficio e che ha di conseguenza in mano la geometria nativa in maniera tale che informazioni che devono essere comunicate direttamente al progetto possano essere visualizzate sia da chi si trova in cantiere sia da chi si deve occupare effettivamente di sviluppare il progetto stesso. In questa immagine vediamo la parte relativa al timeliner, per cui attraverso strumenti di simulazione è possibile appunto visualizzare in che modo il nostro modello venga realizzato, per cui vedete che c'è il diagramma di Gantt con le date di inizio e di fine che sono state pianificate, in realtà nell'immagine che vedete lì in basso non è visibile interamente il pannello ma al fondo in pratica di ogni riga che corrisponde a un'attività che deve essere eseguita è associata a una selezione, ovvero uno o più oggetti che appartengono al modello che devono essere realizzati in quel periodo. Sono presenti poi, vedete che c'è una scheda che si chiama Simula, Simulate, sarà possibile poi riprodurre questa simulazione, sarà possibile calcolare di fatto un video che ci mostra la realizzazione del progetto, questo video può essere poi esportato e condiviso con altri utenti. All'interno di Naviswil sono presenti degli strumenti di annotazione e di revisione, per cui vedete l'aspetto della scheda revisione dove sono presenti dei comandi di misurazione, adesso nell'immagine specifica vedete delle misure espresse in unità di misura imperiali, ma di fatto l'ambiente di Naviswil potrà essere poi personalizzato impostando un'unità di misura che per voi è più consona, quindi si potrà impostare millimetri in centimetri in metri come preferite e di conseguenza poi le misure saranno espresse secondo quell'unità. Questo mi permette di poter vedere direttamente sul modello 3D, di poter recuperare delle informazioni relative alle distanze occupate dagli oggetti, così come è possibile attraverso i tag, piuttosto che l'inserimento dei commenti, di aggiungere informazioni che diventano parte di quella inquadratura, per cui in Naviswil se è presente uno strumento che si chiama viewport, per cui posso scattare diciamo così un'istantanea, un'immagine che altro non è che un punto di vista congelato all'interno del mio progetto, e questa vista pur essendo di un modello tridimensionale è come se fosse una vista piattita su cui poter eseguire annotazioni di questo tipo. Quindi potrei annotare aggiungendo una nuvola di revisione un elemento indicando che debba essere spostato, modificato, sostituito con un altro e questo diventa parte della mia scena di Navisworks o potrebbe se invece utilizzassi la parte web archiviato nel mio visualizzatore in cloud e di conseguenza visibile da chi in ufficio ha accesso al modello 3D. Ecco, in questa è presente vedete un commento per cui è stato annotato un oggetto scrivendo appunto una modifica che magari deve essere eseguita su quell'elemento tipo lo spostamento in una posizione diversa piuttosto che il cambio di sezione o il cambio di tipologia di oggetto. Con questa immagine abbiamo concluso la carrellata delle caratteristiche principali di Navisworks adesso proviamo un po' a vedere invece direttamente il software in azione quindi mi porto ecco su Navisworks questa che vedete è l'interfaccia classica di Navisworks appunto per cui è sempre un'interfaccia molto simile a quella di altri software Autodesk intendo in questo prevalentemente Revit per chi magari di voi già lavora con Revit per la costruzione di un modello 3D ma di fatto la barra multifunzione è presente ormai da tempo anche in altri software AutoCAD compreso per cui all'interno della nostra barra multifunzione troviamo una serie di schede che organizzano in modo logico i diversi comandi il Navisworks che sto utilizzando io in questo momento è l'ultimo rilasciato quindi 2017 è in inglese ma è una scelta mia altrimenti sarà possibile installarlo ovviamente anche in italiano e di conseguenza avere l'interfaccia con i comandi di relativi nomi espressi in italiano ma a parte questo il contenuto è assolutamente identico l'interfaccia classica che è quella che state vedendo in questo momento altro non è che un'organizzazione degli strumenti appunto che possono essere presenti all'interno del nostro ambiente di lavoro c'è un po' come in AutoCAD questo concetto di area di lavoro workspace che può essere customizzato quindi possono essere aggiunti o tolti pannelli così come possono essere invece caricati degli ambienti alternativi dell'interfaccia appunto scegliendo tra le tre che sono presenti di default all'interno di Navisworks questo che cosa va a cambiare va a cambiare semplicemente gli oggetti che sono disponibili a portata di mano fin da subito per cui vedete che adesso avendo caricato l'interfaccia minimal buona parte se non tutti i pannelli sono stati chiusi per cui l'interfaccia è ridotta proprio al minimo questi dovranno essere poi da me aperti utilizzando i tool gli strumenti che sono presenti all'interno all'interno di questo pannello perciò se devo eseguire un'analisi delle interferenze dovrò aprirmi il pannello se devo invece lavorare con le informazioni relative al tempo e quindi il diagramma di Gant dovrò aprire il timeliner e questi pannelli si apriranno e chiuderanno direttamente all'interno dell'interfaccia invece con quella classica che era quella standard che avevo utilizzato io poco fa pur rimanendo di fatto identica dal punto di vista del contenuto la nostra barra multifunzione magari vedete come attorno quindi sui lati sinistro destro e in basso sono presenti una serie di schede e queste aprono visualizzano appunto quell'elemento ma che rimane comunque lì direttamente a portata di mano nella scheda home è presente il comando appendi aggiungi attraverso questo io posso caricare all'interno della mia interfaccia un formato un file CAD tridimensionale per cui vedete come l'elenco che era quello che avevo cercato di catturare e posizionare nel powerpoint in precedenza ci mostra appunto i diversi i diversi formati che sono supportati piccola parentesi visto che siamo all'interno di questa finestra al di là di quelli che possono essere i formati CAD Autodesk e non che possono finire all'interno della nostra scena diventa importante anche ricordare come in Navisworks possono essere aggiunti anche i file che provengono dai rilievi con laser scanner per cui se notate all'interno di questo elenco c'è ad esempio qui riportato i file faro per cui i file che sono stati ottenuti attraverso la scansione e quindi file con una lungola di punti possono finire all'interno della nostra scena diventano degli oggetti a tutti gli effetti che possono essere messi in relazione magari con una parte 3D che è la parte del progetto che si sta sviluppando questo può anche essere utilizzato il file della nuvola di punti ottenuta con il laser scanner anche come oggetto da mettere a confronto nel momento in cui viene eseguita un'analisi dell'interferenza facciamo adesso un esempio molto molto semplice per cui proviamo ad aggiungere al nostro modello un file di Revit per cui vedete come qui io adesso abbia un file RVT che posso andare ad aprire questo verrà convertito quindi ci sarà un'operazione di conversione che inizialmente dovrà essere eseguita questa operazione di conversione fa sì che gli oggetti nativi di Revit possano essere compresi e considerati in maniera ottimale all'interno di Navisworks ed è un'operazione questa che diventa invece un'operazione estremamente strategica perché di fatto Navisworks va a semplificare notevolmente le geometrie considerate che Navisworks non è Autodesk da sempre è un'acquisizione che è stata fatta alcuni anni or sono e che è diventata strategica proprio per la gestione dei file di grandi dimensioni dove all'interno del software nativo poteva diventare problematica una visualizzazione e una navigazione ottimale invece questo modello trasferito all'interno di Navisworks diventa estremamente leggero molto più più semplice da navigare consentendo di conseguenza anche la la navigazione o comunque la visualizzazione di modelli estremamente estremamente complessi questa operazione di conversione produce un file con un'estensione particolare un'estensione nvc che sta per Navisworks cache e all'interno di questo file di Navisworks c'è proprio la presenza la conversione dei diversi oggetti che diventano poi elementi comunque visibili selezionabili utilizzabili anche all'interno della scena ovviamente di Navisworks qui vediamo come la parte tridimensionale degli elementi sia stata caricata vedete che c'è sempre anche un'indicazione di quelli che possono essere gli elementi di griglia quindi quella parte di riferimento che viene specificata all'interno di Revit per poter collocare gli oggetti secondo una determinata logica magari prevalentemente gli elementi strutturali del nostro modello possono entrare e diventare di conseguenza parte del nostro del nostro progetto così come in questi elementi è visibile il materiale per cui su quella parte inclinata quella copertura chi ha creato il progetto in Revit ha assegnato una texture di una copertura appunto che rimane che diventa un'informazione visibile anche all'interno all'interno di Navisworks così come diventa visibile la texture che invece è stata assegnata a questi serramenti così come al muro per cui un'informazione è quella dell'aspetto che rimane e che diventa parte del nostro progetto noi possiamo decidere di salvare delle viste che possono essere significative per il nostro progetto per cui nella scheda viewpoint e punti di vista è possibile salvare la viewpoint in maniera tale che io abbia salvato all'interno del mio progetto un punto di vista che per me sia un punto di vista utile questo proprio per consentire in maniera più veloce il ritorno a quella posizione io adesso ritorno qui sul mio sul mio pannello dei punti di vista che sono stati salvati per cui vedete come cambiando anche la posizione con cui si osserva il progetto diventa rapido il ritorno alla posizione di partenza in realtà sono presenti tutta una serie di punti di vista questi non li ho creati io adesso in realtà erano le viste tridimensionali di Revit che sono rimasti sono rimaste come punti di vista come viewpoint all'interno di Navisworks appunto quindi ho la possibilità di tornare a visualizzare il mio progetto secondo quelle che erano dei punti di vista specificati direttamente dal progettista che diventano quindi vedete velocemente richiamabili all'interno anche di un progetto di un ambiente diverso rispetto a quello nativo così come ritrovandoci all'interno del nostro del nostro progetto potremmo anche pensare di navigarlo il progetto stesso quindi potremmo anche decidere di attivare una visualizzazione in terza persona quindi vedete che compare questo mino che è un po' annegato in questo momento all'interno del progetto ma in realtà poi sarà possibile attivare anche il controllo della gravità così da poter eventualmente anche orientarsi e sentire gli elementi che sono presenti all'interno della nostra scena adesso io entro all'interno dei nostri del nostro modello ok ok adesso attivo attivo la gravità e dopodiché mi muovo all'interno del all'interno del modello ovviamente ho attivato in questo caso anche le collisioni quindi vedete come questo meno senta la presenza degli oggetti e qualora appunto con questa opzione della collisione attivata non mi permette appunto di attraversare gli oggetti rimuovendo invece quella proprietà invece io mi muovo all'interno del mio modello senza come dire colpire colpire gli elementi gli strumenti di revisione che abbiamo visto prima possono essere legati ad esempio al riconoscimento o comunque al tracciamento di un di un vettore che ci permetta di capire le distanze che possono avere gli oggetti per cui vedete che tra i riferimenti che io ho indicato quindi tra questa copertura e questa soletta io ho la possibilità di avere un riferimento che graficamente mi indica quali siano appunto le distanze reali tra gli oggetti per cui sarà sempre una distanza scomposta secondo quella che è effettivamente la z che separe i due punti così come le coordinate parziali x e y di quel triangolo rettangolo che viene identificato questo appunto perché mi sto muovendo su due punti che non sono ortogonali tra di loro ma comunque ho sempre un riferimento grafico che mi descriva gli oggetti così come posso eventualmente aggiungere un testo piuttosto che una parte di disegno per cui io sto in questo momento tracciando un contorno qui in un'area aggiungo anche un testo quindi modificare la porta questo è una di quelle informazioni che rimangono come parte del nostro progetto che possono essere visualizzate dal progettista in maniera tale che possono essere poi di conseguenza eseguite quelle modifiche gli elementi saranno sempre elementi selezionabili quindi io posso in qualunque momento adesso passo a una vista 3d differente in qualunque momento gli oggetti possono essere ovviamente selezionati e questa diventa una caratteristica estremamente importante sia per capire quali possono essere le proprietà degli oggetti per cui vedete come l'elemento possa essere sempre costantemente descritto con informazioni anche legate agli oggetti stessi quali materiali magari sono associati a quegli elementi quindi ho il nome del materiale quindi anche con la possibilità di visualizzare ogni singolo strato che compone un elemento stratificato ho la possibilità di conoscere l'ID e questa è una caratteristica che è importante per identificare l'oggetto per cui ogni elemento aggiunto in un ambiente di modellazione è identificato e quindi è raggiungibile questo diventa importante soprattutto nel momento in cui c'è bisogno di eseguire una modifica all'elemento e quindi rintracciarlo all'interno del progetto così come vedete che c'è tutta una parte dedicata appunto alle caratteristiche di quell'entità comprese informazione relativa ai volumi piuttosto che lunghezze o dati effettivamente geometrici che appartengono a quell'elemento così come c'è la possibilità di assegnare eventualmente le informazioni relative magari alle fasi che sono state associate a quegli oggetti c'è la possibilità di raggiungere gli elementi attraverso uno schema d'albero quindi c'è un albero di selezione che lavora proprio mantenendo quella che è l'organizzazione che è stata data al progetto quindi vedete come ci sia il file rvt completo così come ci sono gli elementi suddivisi per livello e questa è un'informazione che ovviamente deriva dal file nativo di revit appunto adesso abbiamo cambiato vista così da poter visualizzare al meglio per cui vedete come passando all'interno del mio albero di selezione io arrivi a selezionare effettivamente un oggetto specifico altrimenti posso all'interno di quell'albero eventualmente visualizzare quali categorie di oggetti sono state inserite quindi posso anche lavorare ad esempio qui sul livello copertura e di questa copertura riuscire a rintracciare quelle che possono essere le colonne piuttosto che i pavimenti piuttosto che i muri che appartengono a quell'ambito del mio del mio progetto in questo secondo adesso annulliamo questa parte che adesso non ci interessa ecco in questo in questo file in questa immagine che vedete in questo momento stiamo vedendo quella parte di progetto la parte strutturale del progetto che stavamo visualizzando poco fa in quel file di Revit io non ho semplicemente assegnato le caratteristiche geometriche dei miei elementi ma ho anche utilizzato una proprietà direttamente in Revit relativa alle fasi ovvero assegnato in Revit una sorta di come dire di elenco temporale di attività che dovevano essere eseguite in Revit c'è la possibilità di gestire l'informazione relativa al tempo spesso questa viene usata per il confronto per fare lo stato di fatto lo stato di progetto e avere di conseguenza poi una visualizzazione comparativa che automaticamente si ottiene io invece ho usato le fasi proprio per definire i tempi con cui i vari elementi dovevano essere realizzati per cui vedete come selezionando le varie fasi all'interno di quest'albero io individuo una certa tipologia di oggetti lo strumento che ho utilizzato per definire queste selezioni è di fatto una ricerca una selezione attraverso una ricerca questo fa sì che nel momento in cui il progetto di Revit subisce una modifica la modifica viene trasferita anche all'interno dell'ambiente di Navisworks per cui aggiungo un muro nella fase 3 questo verrà già collocato all'interno di questa selezione questi gruppi di selezione che di fatto io ho definito e che vedete come dinamicamente vengano associati direttamente degli oggetti possono essere associati al timeliner per cui io posso teniamolo aperto qui direttamente in modo fisso in maniera tale che non si chiuda più io ho associato ho creato in realtà dei task delle attività a questi task che ho dato un nome perché altrimenti vedete come l'aggiunta del nuovo task sia una riga assolutamente vuota da compilare dopodiché ho specificato una data di inizio e una data di fine attività un'attività pianificata a questa attività ho associato poi una selezione per cui attraverso l'ultima casella che è presente all'interno di questo di questo diagramma ho aggiunto un set di selezione in maniera tale che una determinata un determinato gruppo di oggetti venisse associato a questa attività ho scelto e questa è una delle strade possibili di creare manualmente un elenco di operazioni da eseguire altrimenti c'è la possibilità di utilizzare anche dei dati che provengano dall'esterno per cui se esistesse un file primavera piuttosto che un file di microsoft project piuttosto che un file in formato mpx magari ottenuto con altri software e ce ne sono anche di open source che consentono di salvare in questo formato piuttosto che un file con estensione csv di fatto l'albero delle mie attività può essere già creato può essere già definito con eventualmente anche livelli ulteriori che vanno a rappresentare quel tipo di attività quindi nel momento in cui creo l'elenco di operazioni che deve essere eseguite e nel momento in cui associo poi a questa operazione uno o più oggetti per cui potrei selezionare anche direttamente un singolo muro piuttosto che un singolo pilastro e non utilizzare quel discorso di fasi che invece ho utilizzato io poco fa ecco che ho la possibilità in questo modo di definire una simulazione quindi dal momento che è stato schedulato un inizio e una fine vedete come attivando il play all'interno del mio pannello di controllo che qui vedete notate come il mio modello cominci ad essere realizzato per cui compariranno i vari oggetti questo può essere anche vedete in modo dinamico ancora navigato i vari elementi cominciano a mostrarsi viene mostrata prima la posizione l'ingombro che i vari elementi hanno dopodiché gli oggetti subiranno un cambio di grafica perché in questo caso io ho attivato una visualizzazione realistica che mi consente di vedere il materiale c'è un report lì in alto a sinistra che vi mostra le giornate piuttosto che le settimane con le relative fasi per cui è possibile appunto vedere in modo dinamico come il cantiere si sviluppa questo che io sto visualizzando e siamo arrivati ormai alla fine ecco qui una settimana 22 può essere esportato quindi io posso salvare questa animazione in un formato per me più consono come potrebbe essere ad esempio navi piuttosto che immagini frame separati che vengano poi montati all'interno di un software di editing video l'ultimo aspetto prima di lasciare spazio alle domande vediamo la parte relativa all'analisi delle interferenze e quindi ci portiamo ci portiamo su una vista come questa riduco anche il pannello del timeliner e proviamo invece ad attivare il pannello relativo all'analisi delle interferenze in questo progetto sono stati sommati in realtà quattro file sono quattro file nativi di Revit uno che comprende la parte architettonica una strutturale una impiantistica e una invece un file relativo all'ambiente circostante al terreno e attraverso questo pannello di clash detection aggiungo un test rinomino magari il test lo chiamiamo facciamo l'esempio di confronto tra la parte strutture contro invece la parte relativa ai condotti quindi alla parte mp dovrò potrò creare una serie di interrogazioni diverse di confronti diverse che devono essere eseguiti quindi può essere questo un elenco anche particolarmente esteso proprio perché magari c'è la necessità di mettere a confronto parti diverse del progetto non li può essere ragionato e organizzato attraverso il pannello di selezione che vedete qui qui a sinistra quindi io potrei ad esempio chiedere che vengano che vengano messi a confronto gli oggetti di un certo tipo come potrebbero essere anche proprio degli elementi specifici magari un certo tipo di oggetto piuttosto che elementi che fanno riferimento ad un intervallo particolare del mio progetto contro dall'altra parte invece degli elementi del progetto mp quindi magari i condotti piuttosto che le tubazioni che fanno parte di quel tipo che fanno parte di quel tipo di progetto possono essere specificate le regole quindi anche che tipo di interferenza debba essere considerata impostando eventualmente anche i valori di tolleranza quindi una dimensione che sia al di là di quella che è l'effettiva dimensione geometrica degli oggetti così come c'è la possibilità di organizzare e specificare secondo quali colori devono essere mostrati gli elementi che definiscono l'interferenza dopodiché si esegue il calcolo adesso gli oggetti che appartengono al primo gruppo e quelli del secondo gruppo verranno messi a confronto per cui verranno rilevate una serie di interferenze in questo caso l'elenco è anche un elenco piuttosto importante perché sono state individuate 117 interferenze all'interno del nostro modello e queste potranno essere una per una analizzate per cui vediamo come all'interno del nostro progetto Revit ci mostri focalizzando l'attenzione proprio su quegli elementi che definiscono il problema in questo caso vediamo come quell'elemento strutturale quella trave sia attraversata da quell'elemento tubazione per cui in rosso c'è il primo gruppo quello relativo al primo file selezionato in verde quelli del secondo qui c'è la possibilità eventualmente di sfogliare quindi passare da un'interferenza ad un'altra e quindi avere sempre una visualizzazione il più possibile mirata sul problema di fatto io potrei anche raggruppare proprio perché magari c'è la necessità di eseguire su un gruppo di oggetti un'unica modifica o perché magari chi ha l'incarico di gestire quella parte di progetto è un'unica persona quindi può anche essere definito un gruppo nuovo all'interno del quale c'è quell'insieme di problemi di problematiche che devono essere che devono essere definite quindi vedete come all'interno di questo nuovo gruppo sono presenti queste sei queste sei interferenze e queste potrebbero essere assegnate ad un ad un incaricato che deve occuparsi appunto della della modifica in che modo si trasferirà questa informazione a chi poi dovrà gestire gestire il problema eseguendo esportando di fatto un report quindi io posso salvare un file html della mia analisi delle interferenze adesso lo salvo all'interno di una nuova cartella che posiziono qui sul mio desktop diamo un nome a questa a questa analisi 25 10 2016 salvo adesso qualche istante che venga elaborato il tutto nel frattempo io mi porto sul mio desktop e guardo la cartella che ho indicato come cartella di destinazione ecco che qui è presente il mio file html ed ecco che qui è presente il il report quindi questo è un documento estremamente leggero che posso inviare a chi si occupa appunto chi ha accesso ai dati nativi del file che può eseguire le modifiche se ho creato dei gruppi vedrete ritorniamo nella parte in alto di questo file che gli elementi sono raggruppati appunto all'interno di un di un gruppo questo per avere appunto la suddivisione dei diversi dei diversi elementi e poi cosa estremamente estremamente importante ho la possibilità di identificare di fatto gli elementi che compongono il mio progetto per cui ogni oggetto che sia di Revit o anche con altro avrà un proprio idea avrà un proprio identificativo per cui attraverso questo codice io potrò ritornare sul progetto ed eseguire la modifica magari sulla base delle indicazioni che chi si occupa appunto del coordinamento ha deciso di suggerirmi per poter risolvere quel problema abbiamo sforato di qualche minuto con questo terminiamo la parte questa carrellata questo overview generale su Autodesk Navisworks termino in questo momento la registrazione e se ci sono domande proviamo a verificarle insieme insieme